B.A.R.B. è innovativa, B.A.R.B. è coinvolgente, è stimolante, è accogliente, B.A.R.B. è appassionante. Ciao, io sono una studentessa iscritta al primo anno di Biologia Applicata alla ricerca biomedica. Ho scelto questo corso di laurea magistrale perché è caratterizzato da contenuti estremamente stimolanti, moderni e specializzanti. Nella B.A.R.B. vengono appunto fornite le nozioni per capire le basi cellulari, molecolari e fisiologiche delle malattie con una visione integrata dalla singola cellula all'uomo. Ciao, io svolgo una tesi di laurea nell'ambito delle neuroscienze e in particolare mi occupo dei meccanismi cellulari alla base della degenerazione di popolazioni neurali dopaminergiche, l'evento alla base della malattia di Parkinson. Ciao, sto svolgendo la mia tesi in farmacologia. Nel nostro laboratorio cerchiamo di identificare nuovi approcci terapeutici per il trattamento del dolore, sia acuto sia cronico, dal mal di testa al dolore da cancro. Io svolgo una tesi di elettrofisiologia cardiaca ed in particolare studio le proprietà dei canali ionici, la cui funzione è alla base dell'autoritmicità delle cellule del pacemaker cardiaco. Nel mio progetto mi occupo di valutare come alcune molecole interagiscono con questi canali, modificandone il comportamento, generando quindi delle alterazioni del ritmo cardiaco. Ciao, dopo la mia laurea in BARB ho vinto un concorso internazionale di dottorato negli Stati Uniti, presso la Yale University. Sicuramente la laurea in BARB mi ha fornito ottime basi per poter affrontare un corso di dottorato in un ambiente così ambizioso, competitivo ed internazionale come l'Università di Yale, muovendomi in un modo completamente autonomo. Io mi sono laureata in BARB nel 2014. Attualmente sono al secondo anno del corso di dottorato in ricerca biomedica integrata. Nel mio progetto di ricerca mi occupo della comprensione dei meccanismi molecolari alla base dell'invecchiamento cardiaco. Questa è una tematica di forte rilevanza e anche un forte impatto socio-economico, tant'è che lo studio delle patologie aritmiche cardiache nell'anziano ha suscitato un interesse anche da parte della comunità europea. Il corso di laurea in biologia applicata alla ricerca biomedica fornisce agli studenti gli strumenti per approfondire le nozioni più avanzate nel campo delle ricerche in biomedicina. È un corso di laurea particolarmente indicato per gli studenti che amano e sono curiosi della natura e della biologia ma vogliono contemporaneamente utilizzare le loro nozioni al servizio della salute dell'uomo.